Occhio alla notizia in studio Marco Ferri Appuntamento con l'informazione locale, vediamo i titoli di questo edizio Prosegue il centro Monaldi a Pesaro il piano di vaccinazione In diminuzione rispetto ai giorni scorsi il numero delle persone che rifiutano AstraZeneca Intanto da lunedì prossimo si cambia sede, dopo le polemiche e i disagi si va al Rossini Sede Ucchielli scrive all'assessore regionale alla sanità Saltamartini Per chiedere più punti vaccinali nella zona dell'Unione Pian del Bruscolo Che conta un bacino di 140.000 persone che oggi sono costrette a spostarsi a Pesaro Entro il mese di aprile arriveranno nelle marche 210.000 dosi di vaccino Ecco quali saranno le categorie, le fasce di età interessate e come sarà possibile prenotarsi A Pesaro è iniziata la distribuzione dei tamponi alle realtà sportive Rich e Della Dora fanno la prima consegna simbolica a tre società che ne hanno fatto richiesta Destro rassegna le dimissioni da allenatore dell'Alma Juventus Fano Quando le cose vanno male, dice l'ex mister, c'è solo una soluzione Dimettersi Tra poco in diretta su Fano TV Primo cittadino con il sindaco di Cartocetto Enrico Rossi Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia In primo piano i vaccini Il piano dei vaccini Oggi al centro Monaldi a Pesaro Sono proseguite le somministrazioni di AstraZeneca Rispetto a ieri, gli anziani che lo hanno rifiutato sono in netta diminuzione Angelica Panzieri Prosegue la campagna vaccinale dedicata agli over 80 Oggi qui al centro Monaldi di Pesaro sarà somministrato soltanto il vaccino AstraZeneca Molti anziani si sono già messi in fila Si sono messi pazientemente in fila Complice la bella giornata di sole che li ha scaldati durante l'attesa Al centro sociale Monaldi di Pesaro è ripartita la campagna vaccinale Riservata agli over 80 e ai docenti Rispetto a ieri, oggi ci sono state meno rinunce da parte degli ultraottantenni La maggior parte dei quali, nonostante l'attesa Ha deciso di farsi vaccinare con AstraZeneca Senza alcun tipo di esitazione Ieri c'è stata più rinunce Quest'oggi una decina sta andando tranquillamente Ogni tanto c'è un po' di intoppo Diciamo così, però sul discorso del quarto d'ora e venti minuti non di più Non è una grossa fila, sta funzionando bene Tutto bene, per il momento Speriamo, vero? No, no, io non ero preoccupato Non vedeva l'ora? No, non vedeva l'ora Era meglio di uno che non la pare Però è necessario di farla e lo abbiamo fatto Non sono contenta ma lo faccio Non è contenta perché è AstraZeneca? No, 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 per il vecino lo faccio comunque Sole, piante in fiore e tanta pazienza Ma del resto manca solo una tenda Un ristoro sarebbe completo Attendiamo con tanta pazienza Ed è contento di farlo? È necessario, sì Non la vorrei ma tanto oramai Ma tanto lo deve fare Sono qui posto È fatica a dire se sei contento o se non sei contento Qualcuno ha aspettato fuori Altri all'interno dei tre gazebo allestiti nel giardino È imbarazzato perché avere un lavoro così Noi siamo nel terzo mondo Un lavoro così e così È un posto di miserabile Un'assistenza medica inimmaginabile Dal lunedì 29 marzo le cose cambieranno Perché i vaccini saranno somministrati nella sede unica dell'Ex-Risto All'interno dell'Iper-Conad Uno spazio decisamente più grande rispetto a quello del Monaldi Dove verranno vaccinate almeno 1500 persone al giorno Ho dato grande disponibilità all'Asure e alla gestione dell'Iper-Rossini Per collaborare allo smontaggio E a liberare tutta l'area che ospiterà il punto vaccini Abbiamo anche avuto la disponibilità da parte di signoretti di Xanitalia Di tutta la sua azienda A Villa Fastigi di circa 1000 metri quadri Quella potrebbe diventare la postazione dove i medici di base Possono vaccinare i loro pazienti E anche chi risiede nell'Unione di Pian del Bruscolo Deve raggiungere il punto vaccinale che abbiamo visto poco fa Una situazione ritenuta assurda dal presidente Palmiro Occhielli Che ha inviato oggi una lettera all'assessore regionale Filippo Saltamartini Simona Zonghetti Bisogna ascoltare le comunità E' assurdo che nell'Unione più grande delle Marche Con un vaccino di utenza di oltre 140.000 abitanti E più di 16.000 imprese Si possa pensare di concentrare le vaccinazioni In un solo punto, al centro Monaldi A dirlo è il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Occhielli Che lancia un appello per chiedere altri punti vaccinali Evitando disagi, lunghe file e assembramenti Tra le proposte, le sedi dei medici di famiglia La Casa della Salute a Montecchio Il Palavitri e il BCC Palace a Gradara Oltre a un secondo punto di vaccinazione a Pesaro Per questo oggi è inviato una lettera all'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini E ai direttori di Asur Marche, dell'area Vasta 1 E del distretto sanitario di base Continuiamo a fare i vaccini A Pesaro, Fano, Urbino Come se fossero tre comuni Cioè dai territori interni Da Montecchio, da tutta questa vallata 50.000 abitanti Devono partire, andare a Pesaro Poi devono fare tutto online Devono fare le prenotazioni Che senso ha non chiamarli Fargli fare su tre notazioni del medico Piuttosto che far fare le file Li chiama E fa gli appuntamenti Fai i vaccini Cioè sembra fatta Non so Sembra quasi fatta apposta Spero che questa volta la Regione ci ascolti E risponda Prosegue i tocchielli Perché bisogna andare spediti E vaccinare in tempi rapidi In tutti i territori È necessario trovare una soluzione Devono andare 150.000 abitanti Tutti al centro Monaldi A Pesaro Ma siamo normali? Ecco io comincio a pensare Veramente che Che ci sia qualcosa che non funziona Insomma Quindi spero Faccio una specie di appello All'assessore regionale Che ho avuto modo anche di conoscere Quando eravamo parlamentari Un po' di consenso E un po' di ascolto Ai sindaci dei territori Che conoscono bene La loro popolazione E la loro comunità E dentro il mese di aprile Arriveranno nelle Marche 210.000 dosi di vaccino Ma vediamo nel dettaglio Quali saranno le prossime categorie E come è possibile prenotarsi Il commissario straordinario figliuolo Ha reso note le forniture dei vaccini Che verranno distribuite in Italia Nelle prossime settimane Per le Marche sono previste 210.000 dosi Che arriveranno nel mese di aprile Intanto proseguono i richiami E il recupero delle somministrazioni Su 133.020 diritto Fino ad oggi hanno ricevuto il vaccino Circa 75.000 persone Altre 6.000 Nelle case di riposo Da due settimane poi Si è partiti con le persone Estremamente vulnerabili In dialisi Trapiantati O in attesa di trapianto L'arrivo delle fiale di Pfizer Moderna ha consentito Di vaccinarne più di 1.600 Su una platea di 250.000 E con la prossima fornitura Nella prima metà di aprile Verrà aperta la prenotazione Per la fascia di età 70-80 anni Seguirà quella degli over 60 E proprio in questi giorni Si stanno decidendo le date precise L'andamento del prossimo mese Ha spiegato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini Sarà ancora molto debole Infatti con 210.000 dosi Si potrà completare il ciclo Per 100.000 persone Probabilmente Ha proseguito Solo a maggio-giugno Sarà possibile consegnare Direttamente i vaccini Nelle fabbriche E alle associazioni Che hanno aderito All'accordo proposto Dalla regione In ogni caso Nelle fac dell'Asur Area Vasta 1 Si precisa che le fiale Di Pfizer e Moderna Verranno riservate Principalmente Alle persone estremamente fragili Al punto di vaccinazione Il medico valuterà Le condizioni di salute Dell'utente Che indicano l'uso Di uno specifico vaccino In mancanza Verrà utilizzato Quello con maggiore disponibilità Il cittadino Potrà accettare Firmando il consenso Oppure potrà rifiutare Ma non scegliere Il tipo di vaccino Inoltre Il distretto sanitario Garantirà La vaccinazione domiciliare Degli ultraottantenni Il cui medico Di medicina generale Non aderisce all'accordo L'avvio dell'attività Avverrà Non appena arriveranno Le dosi Sul sito inoltre Si precisa Che chi ha contratto Il coronavirus Può sottoporsi Alla vaccinazione Ma ad almeno Tre mesi di distanza Dall'infezione E preferibilmente Entro i sei mesi Dalla stessa Invece Se qualcuno Dopo la prima Somministrazione Contrae il covid Non deve ricevere La seconda dose Ma verrà preso In carico Per la gestione Del richiamo Tutte le prenotazioni Possono essere effettuate Sul portale Di posti italiani Indicato anche Sul sito Dell'Asure Della regione Oppure tramite Il numero verde 800 00 99 66 Ma è attivo Anche un altro numero Che non serve Per prenotarsi Ma soltanto Per avere informazioni Ed è L'800 936 77 È operativo Dalle 9 Alle 12 Dalle 13 Alle 18 Tutti i giorni Compresi Festivi Prefestivi Infine Dagli uffici Dell'area vasta Ci hanno precisato Che quando si prenota È fondamentale Inserire un numero Di cellulare attivo Sul quale verranno inviati sms Con informazioni Ed eventuali comunicazioni È successo infatti Che qualche over 80 Ha chiesto ai patronati O ad alcune associazioni Di procedere per conto loro Ma poi I numeri inseriti nel portale Non sono risultati accessibili Perché non corrispondenti Agli anziani prenotati Ecco perché in tanti Non hanno ricevuto Nei giorni scorsi Il messaggio di disdetta Intanto l'area vasta Ha affidato al CUP L'incarico di contattare Chi si è visto annullare La seduta A causa dello stop temporaneo Di AstraZeneca Intanto di poco fa La notizia Che in un vertice Tra il premier Draghi Curcio e Figliuolo Un milione di dosi Pfizer Saranno distribuite domani Alle regioni italiane Circa un milione di dosi Verranno distribuite Alle regioni Interessando 214 strutture sanitarie Questo è quanto si è appreso In una notizia Che è stata battuta Appunto poco fa Intanto il tema dei vaccini È stato al centro dell'incontro Che si è svolto Questa mattina Ad Ancona Tra il sottosegretario Del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri E il governatore Francesco Acquaroli E gli assessori Della giunta regionale La riunione è stata L'occasione Per fare il punto Sulla situazione pandemica Rinnovando Alla cautela E al rispetto Di tutte le norme Di sicurezza Con uno sguardo Di fiducia Al futuro Grazie alla campagna Vaccinale E nelle Marche Però anche oggi Si sono registrati Nove decessi Legati al coronavirus Tra le vittime C'è anche un anziano Di 92 anni Di Monteporzio Resta alta La percentuale di positivi Sul totale Delle nuove diagnosi I casi rilevati Nell'ultima giornata Sono 265 Di cui oltre la metà Nella provincia di Ancona In aumento anche I ricoveri Negli ospedali Della regione 13 pazienti in più Rispetto a ieri Intanto in terapia intensiva Salgono a 152 Le persone intubate Mentre quelli In semi intensiva Scendono a 197 A Pesaro Iniziata Invece La distribuzione Dei tamponi Alle realtà sportive Il sindaco Matteo Ricci E l'assessore Della Dora Hanno effettuato La prima consegna simbolica A tre società Che ne avevano fatto Richiesta Prende il via Pesaro L'operazione Sport Sicuro Sabato scorso È partita La distribuzione Dei tamponi Alle realtà sportive Pesaresi A fare la prima consegna A fare la prima consegna simbolica Al campo scuola È stato il sindaco Matteo Ricci Assieme all'assessore Allo sport Emilia Della Dora A tre Delle oltre 30 società Che ne hanno fatto richiesta Si tratta Della ASD Gabbiano Snoopy E Robur E Pantere Rosa Questo contributo Dei 2500 tamponi Che diamo gratuitamente Alle società sportive È un aiuto A svolgere La loro attività Nella massima sicurezza A coloro che possono ancora Svolgere attività In questi giorni A coloro invece Che la potranno svolgere Dopo Pasqua Quando speriamo Seremo usciti Dalla zona rossa E sono tamponi Che potranno usare Appunto per la ripartenza Quindi ci crediamo molto Questo screening continuo Uno dei pochi modi Che abbiamo Per contrastare la pandemia Ovviamente il vaccino È la soluzione finale No? Della risoluzione finale Per sconfiggere il virus Ma nel frattempo Uno screening periodico Nei luoghi Nelle comunità Quindi le scuole E lo sport Sono per noi essenziali Quindi credo che siamo Uno dei pochi comuni Che mette risorse proprie Per aiutare In questo caso Il mondo dello sport Qualche settimana fa Il mondo della scuola Per aiutarli appunto Ad avere scuole E sport sicuro Ma di fatto Molte realtà Stanno continuando A fare attività sportiva Ricordo che anche oggi pomeriggio Ci sono campionati di basket Quindi di fatto Ci sono società Che stanno continuando Il mio augurio È che possano riniziare tutte Perché abbiamo il mondo sportivo Che è stato fortemente colpito Quindi oltre diciamo Alla gente che fa attività sportiva Sia a livello agonistico Che dilettantistico Ci sono dei professionisti Dei lavoratori Quindi c'è un indotto economico importante Ci sono famiglie Veramente in difficoltà Questo è sicuramente Quello dello screening È quello che abbiamo fatto Già e abbiamo dimostrato Con le scuole È un'operazione Che ti può permettere Di avere una fotografia istantanea Ma se viene fatto costantemente Ritengo che sia Un metodo Veloce E efficace Per poter contenere il contagio Non essendoci però Quest'obbligo di tampone L'idea di Dei 3.000 tamponi O di donarlo Di fare sì Che ci sia una società Che li possono chiedere È un modo anche Per sensibilizzare Un po' tutti Ad adoperarsi Per fare Non è obbligatorio Però io so benissimo Che alcune società Si sono messi in proprio Hanno fatto collette Alcune ragazze Sono andate dal loro medico Però questa cosa Proposta dal comune Secondo me Ha una valenza Secondo me Molto molto importante Perché dà quel segnale Non solo di quantità O di Proprio come messaggio Positivissimo Per far capire Che nonostante Non ci sia un obbligo Tamponatevi O comunque Stateci molto attenti Intanto proseguono I controlli Della Polizia Locale Di Fano Con l'ausilio Della protezione civile Lo scorso fine settimana Sono state controllate 49 persone E 100 attività Comprese 30 bancarelle Del mercato In cui è consentita Soltanto la vendita Di generi alimentari I vigili urbani Hanno sanzionato Un esercizio commerciale Per il mancato rispetto Norme anti-Covid Mentre non sono emerse Violezioni Per il mancato utilizzo Della mascherina Né per gli spostamenti Ingiustificati Questa mattina invece Sono stati elevati 8 verbali Per mancanza di assicurazione Omessa a revisione Eccesso di velocità E transito Non consentito In zona A traffico Limitato Oggi si celebra La giornata mondiale Dell'acqua E per l'occasione Aset e Marche Multiservizi Hanno organizzato Un viaggio virtuale Con l'acqua Una visita Ovviamente Virtuale Vista l'impossibilità Di aprire Gli impianti Alle visite guidate La semplicità Di un gesto Come quello Di aprire il rubinitto Ed avere a disposizione Direttamente Nelle proprie case Una risorsa eccellente Come l'acqua Sintetizza La complessità Di un lavoro quotidiano Come quello Svolto dalle aziende Marche Multiservizi Ed Aset Che oggi In occasione Della giornata mondiale Dell'acqua Sono ancora una volta In prima linea Per promuovere Una vera cultura Della risorsa idrica Da qui Vista l'impossibilità Di aprire gli impianti Alle visite guidate Previa del covid La presentazione Attraverso un video Del loro viaggio Virtuale dell'acqua Il messaggio Che si vuol dare È della massima attenzione Sia sui suoi consumi Dobbiamo avere La forza Il coraggio Di guardare avanti Creando le migliori Condizioni di approvigionamento Per dare continuità A un servizio Dicevo Che è fondamentale Per lo sviluppo Sia produttivo Turistico E di vita Di un territorio Dobbiamo avere La capacità Di guardare avanti Creando infrastrutture Che ci diano La tranquillità Per il futuro E per le nuove generazioni Le scelte Che guardano Verso La creazione Di un invaso Che ci possa consentire Di trattenere L'acqua Quando piove Avere dell'acqua Da distribuire Quando c'è La carenza Ed estiva E anche Voglio dire Produrre energia Elettrica Che è una fonte Rinnovabile Quindi ecologica Per essere Diciamo così Attrattivi Sia da un punto di vista Turistico Ambientale Ricettivo Abbiamo necessità Di avere Autonomia E la capacità Di mettere A sistema Alcune pianificazioni Di carattere Provinciale Diventa Veramente Fondamentale Soprattutto In un contesto Come il nostro Dicevo Che Ha captazioni Di carattere Superficiale Ormai da diversi anni La capacità Di mettere A sistema Una serie Di attività Quindi La pressurizzazione Di alcune Zone Del nostro Territorio Iniziare A fare Delle campagne Di sensibilizzazione Nei confronti Del cittadino Sull'utilizzo E sulla Riduzione Dei consumi Dall'utilizzo Dei riduttori Di flusso Le cassettine Nei servizi Igenici La casetta Dell'acqua Proprio per Avere comunque Un impatto Il meno possibile Da un punto di vista Anche della gestione Delle acque Imbottigliate Quindi Tutte azioni Che vanno Di fatti A portare Dei benefici Il nostro ruolo È quello di Festeggiare Queste giornate Tutti i giorni Dell'anno Perché tutti i giorni Siamo preparati Appunto E operiamo Per cercare Di garantire La migliore qualità La quantità E le garanzie Che debbono avere Tutti i sistemi Di approvvigionamento Smaltimento Delle depurazioni E quant'altro Quindi questo È il nostro obiettivo Ricorre oggi Il 38esimo Anniversario Della morte Del Marò Del battaglione San Marco Filippo Montesi 19enne Unico caduto Italiano Della spedizione Di pace In Libano A ricordare A ricordarlo Oggi Il quartiere Di Sant'Orso Associazioni E comuni Il giovane Fanese Morì Al Policlinico Umberto Di Roma Umberto I Di Roma Il 22 marzo 1983 A causa Delle ferite Riportate Durante Un attentato Dopo i funerali Celebrati Nella chiesa Di Sant'Amari Gauritti A Fano Fu sepolto A San Costanzo Paese Di origine Della famiglia In sua memoria Nel tempo Sono state dedicate Sale Vie Monumenti E anche Uno stadio Comunale Una chiave Al primario Di ginecologia Per celebrare I 417 Nati Nel comune Di Fano A Pesaro Invece Piantati 15 Alberi Per il futuro Dedicati Agli oltre 500 bambini E bambine Venuti al mondo Nel 2020 Filippo Pucci Nel primo giorno Di primavera Il comune Di Fano Ha aderito Alla giornata Nazionale Della gentilezza I nuovi nati In totale Nella nostra città Sono 417 I bambini E le bambine Nati nel 2020 L'iniziativa Rientra Nell'ambito Della rete nazionale Costruiamo la gentilezza Ed è stata ricordata Dall'amministrazione Fanese Tramite una lettera Di benvenuto Recapitata per posta Nelle case Delle famiglie Dei più piccoli Con un messaggio Di affetto E speranza Per il futuro E attraverso Un gesto simbolico Abbiamo fatto anche Un bel gesto Abbiamo consegnato Le chiavi della città Al reparto maternità Al primario Alle dottoresse In un periodo Rossellini Rossellini Nel quartiere Nel quartiere di Celletta Il comune E il centro Di aiuto Alla vita Hanno piantumato 15 alberi Per il futuro Dedicati ai 522 Nuovi nati Sempre nel 2020 Nella città Pesarese Il 21 marzo Giorno di primavera Si celebra la vita Ha detto il sindaco Di Pesaro Matteo Ricci Ricordare i bambini Venuti al mondo È un bel segnale Di speranza Per il futuro E una spinta Alla natalità Oggi Ha un valore Ancora più grande Perché lo scorso anno Abbiamo avuto La più alta mortalità Dal dopoguerra Siamo ancora In una fase delicata Ha proseguito poi Il primo cittadino Ma il 2021 Deve essere Un anno di liberazione Questa mattina Il tecnico Dell'Alma Juventus Fano Flavio Destro Ha rassegnato Le dimissioni Da allenatore Della prima squadra Ringrazio Il presidente Offidani La società I direttori Per avermi Dato la possibilità Di allenare Il fano calcio Ha dichiarato L'ex allenatore Ringrazio I giocatori E tifosi Per essermi Stati vicino E sono rammaricato Per non aver potuto Regalargli Tante vittorie E punti Purtroppo Ha spiegato Destro Nel calcio Quando le cose Vanno male C'è solo Una soluzione Per questo motivo Ho deciso Di dimettermi Plauso Della città Di Pesaro A Jordan Valdinocci Questa mattina Il sindaco Ricci E l'assessore Della Dora Hanno incontrato Il campione Del mondo Di kickboxing K1 Premiandolo Per il prestigioso Risultato Conseguito Lo scorso 13 marzo A Monaco Di Baviera Mi ricordo Mi ricordo il film Di Rocky Balboa Esordito Il primo cittadino Sollevando la cintura Vinta da Valdinocci La città è orgogliosa Di quello che ha fatto Grazie ai suoi risultati Speriamo di poter Ospitare manifestazioni Che riguardano La sua disciplina Attraverso lo sport Si impara tanto Ha commentato Il neocampione Spero che questa vittoria Porti un messaggio positivo Nonostante il periodo Difficile Che stiamo vivendo Tra poco Invece C'è il sindaco Di Cartoceto Enrico Rossi Per primo cittadino Informazione sul canale 17 Torna invece domani mattina Alle 7 puntuali Come sempre In diretta Con il commento Alla stampa del giorno Acchio il giornale Arrivederci